Il documento sottoscritto c'è ed il deputato andriese dei conservatori e riformisti Benedetto Fucci lo mostra durante una conferenza stampa convocata per spiegare l'assenza dei consiglieri provinciali del gruppo di centrodestra nella sise di ieri mattina. Il documento come detto c'è ed è un accordo politico di condivisione dei principi ispiratori del centrodestra tra l'onorevole Fucci, allora segretario provinciale di Forza Italia, e Francesco Spina, oggi presidente della BATMA, allora candidato alla presidenza della provincia. Il polverone scatenato proprio dal sindaco di Bisceglie dopo la richiesta di adesione al Partito Democratico porta con sé la lunga scia di prese di posizione ed interventi anche a livello provinciale. Spina dichiarava la convinta adesione al progetto di centrodestra è una lontananza totale e incolmabile con una sinistra e nella fattispecie con il PD di cui non condivideva assolutamente nessuna progettualità. Oggi stiamo a discutere di un problema conseguenziale alla richiesta di Spina, credo ancora oggi richiesta, ma sicuramente alla luce di quello che sta avvenendo richiesta che sarà avvallata, di assumere, di prendere la tessera del PD. Ma a spiegare il perché dell'assenza in Consiglio provinciale è Tonia Spina, capogruppo nell'assise della BAT dei conservatori riformisti. Assenza aspramente criticata da Spina stesso da parte dei consiglieri dei conservatori riformisti, di fatto la maggioranza con la quale il presidente della BAT ha governato sino a questo momento. Secondo me dovevamo anche capire un attimo se oggi effettivamente lui si presentava in consiglio dimissionario oppure no. Io voglio ricordare che le sue dimissioni prescindono dalla durata del consiglio provinciale perché i consiglieri rimangono in carica anche se il presidente si dimette. E per statuto non esiste la sfiducia del presidente, quindi i consiglieri non possono né sfiduciare né far dimettere il presidente. Se il presidente si vuole dimettere lo può fare con un atto autonomo. Tonia Spina, Luigi Antonucci, Sabino Miccoli, Benedetto Silvestri, Raffaele Ruttigliano hanno ribadito che la sfida lanciata dal presidente Spina di dimettersi tutti assieme per sciogliere il consiglio provinciale è assolutamente percorribile. Io ritengo che il gruppo di conservatori e riformisti che ha dichiarato la sua disponibilità anche a dimettersi laddove anche i consiglieri del Partito Democratico siano intenzionati a fare questa cosa. In ballo anche il consigliere regionale Francesco Ventola, ex presidente della provincia Batte, convinto sostenitore dell'ente che ribadisce il rammarico per una questione del tutto personale ma che coinvolge inevitabilmente il territorio nonostante l'ente possa tranquillamente proseguire l'attività anche senza il presidente stesso se dimissionario. La cosa più brutta è vedere utilizzata la provincia che tanto questo territorio ha voluto nel corso degli anni, che ha visto anche gente piangere, gente che è morta senza vedere il proprio sonno realizzato, cioè di un ente che rimanesse coeso e che rappresentasse un'identità territoriale di 400.000 abitanti, dopo tanto fare, vedere che viene utilizzata per battaglia interna e discalata all'interno del Partito Democratico è quello che mi rammarica di più. A noi interessa che il territorio potesse continuare ad essere deniamente rappresentato con l'autorevolezza che è data dal voto di tutti i consiglieri comunali che hanno sostenuto questa sua elezione e soprattutto dal lavoro che hanno incessantemente svolto a titolo gratuito senza nemmeno il rimborso spese dei consiglieri provinciali di conservatori e riformisti.